Buonasera, Romain. Sei ancora in ufficio? Mi hanno anticipato il meeting a domani. Volete evitare una cena con i suoceri? Sì! Ma dove cazzo sei venito? I miei ti aspettano! Nascondere una scappatella? Oh, mia vita! O proteggere il vostro giardino segreto? Ci sei, Basterotto? Sì, ci sono. Tranquilli, ci pensiamo noi. La ditta marciava alla grande, avevo trovato l'amore. Insomma, tutto andava bene. Sono qui per un amico sposato che ha conosciuto una ragazza con cui vuole passare un weekend. Come si chiama il suo amico? Il nome, come si chiama? Jean-Jean Claude. Finché non ho conosciuto mio suocero. Ecco papà. Buongiorno, Jean Claude. Gerard. Sei mia suocera. Ecco mamma. Questo weekend festeggiamo 30 anni di matrimonio e Gerard parte. Ma dai. Per lavoro. Pro comincia a fare troppe domande. Che devo fare? Siamo nella merda! Non ve l'ho ancora detto, ma ho un problemino di narcolessia. Beh, non è grave. Alla prima piazzola ti fermi, ce la fai, no? Non c'è problema. Perfetto. Ti succede spesso? La solita scusa della macchina in panna. Ho davvero la macchina in panna? Come no? E il mio seno è naturale. Mi scusi. Tronzo! Cos'è questo casino? Missione annullata. Col cavolo, non annulli proprio niente. Ora spacco il vetro. Non vorrei farti male. Stai bene? Sì. Sai qual è il tuo problema? Non sai mentire? Ti dirò tutta la verità. È tutto falso! Ma che ti prendi? Non ha ancora detto niente. Ah, scusa.